L'Elettrical c'è qualcuno? Ci sono io da mezz'ora che non... Basta non la faccio questa task Perché non hai fatto la task? Ciao Molly eh Ciao a tutti ragazzi Siamo Raby e Molly E oggi ci troviamo in un posto diverso Dalla nostra casina Vero Raby? Esatto oggi siamo nello studio di Molly E ci troviamo su Among Us Perché molti di voi Ci hanno consigliato di giocare Among Us Raby e Molly giocate ad Among Us Ok e allora giocheremo giusto Raby? E' bellissimo questo gioco Mi piace tantissimo Ci giocherai tutto il giorno Quindi proviamo subito a giocare Voi come sempre lasciate un mi piace E diteci se volete altri video di Among Us Magari dove giochiamo con i fan Giusto Raby? Esatto e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale Se non siete ancora iscritti Per non perdervi dei video Super mega epici Ok allora iniziamo Ok Raby ci troviamo nella navicella Tu hai un fiorellino Io sono vestito da ammiraglio L'ammiraglio Molly Sta già entrando qualcuno con noi Ok secondo voi chi sarà l'impostore nel primo episodio? Io spero io spero io spero io Ovviamente la Raby sta giocando da cellulari Io sto giocando da computer Quindi ecco è uscito il nostro amico Ovviamente la Raby sta giocando da cellulari Io da computer Quindi Raby non mi guardare lo schermo Promesso? No no promesso Promesso dai Promesso dai Guarda quanta gente Ce ne sono un sacco Fateci sapere poi se volete che giochiamo insieme a voi Oh si starta Via Cinque Quattro Non ti guardo Tre Non mi guardare Due Uno Ok vediamo Ok non mi puoi guardare Non ti guardo ho detto Ok uno è già uscito Perfetto Ci abbandonano subito Allora vediamo Aspetta questo qui non mi fido E tu Renna vai lontano E non guardare quello che faccio io Ok? No non ti guardo Che ti guarda Mi raccomando Vai a fare le task Se sei Io le sto già facendo le task Oppure Cosa ci facevi qua sotto Raby? Ma cosa fai da me? No no Vai a fare le task Non voglio rimanere solo con te Vediamo Sta facendo le task secondo voi? Si che le sto facendo Ma lasciami in pazza Lasciami andare in giro dove voglio Mi sembra che ti stai muovendo molto sospettosa Ma cosa? Sto andando in tutti i punti No non voglio rimanere solo con la Raby Ma vieni qui Adesso ti inseguo No 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 Allora vediamo No 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 Andatevi No vai via Non voglio star Dai Ok il primo corpo Il verde Oh oh Due Due sono stati Ma chiediamo subito dove Due sono stati fatti A fettine Dove dove? Allora chiediamo subito dove Io scrivo Raby è stata No 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 Non sono io dai In security Hai detto che è stato in security Ok in security Noi da dove arrivavamo? No te sei un po' sospetto Perché passavi Passavi Ma non ho fatto niente Ero con te tutto il tempo Allora io non ho visto nessuno 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 Era l'impostura Era l'impostura Era l'impostura Abbiamo vinto senza fare niente E' vai Prima partita vinta Ok Sì Va bene rigiochiamo Perfetto Ok rigiochiamo E' bello che ci stava seguendo Ma infatti era con noi Era con noi Magari ci voleva uccidere tutti e due Vai ci siamo 3 2 1 Non puoi stare? Non puoi stare? Ecco già due hanno lasciato al gioco Perfetto Raby che cosa sei? Eeeh non lo so Allora Questa volta non seguirmi Ok? Io cercherò di fare tutto molto velocemente Via la sporcezia E non puoi dirmi cosa stai facendo Non mi capisco dove sei Eh almeno capisci che non sono l'assassino Tu cosa sei? Non mi fido che tu non sei l'assassino Devo vedere con i miei occhi Potremmo stringere un patto d'alleanza Raby No Con te non firmo nessun patto d'alleanza E comunque io sto facendo tutte le task Tu le stai facendo? Sì sì Sto facendo Sì sì Un diamante c'era lì dentro Dove? Allora ok Se dici diamante vuol dire che stavi facendo lo storage Quindi Sì sì hai ragione Oh Ok emergenza Adesso Hanno fatto fuori qualcuno? Oh porca mia Oh quant'è sentita No molti sono usciti Molti sono usciti No quelli con la X vuol dire che sono morti Cosa è successo ragazzi? Molly con il punto interrogativo Ah hanno detto che è il verde scuro Verde scuro? Verde scuro Verde scuro Probabile Eh io non ho visto niente Quindi schifo No io schifo Gli do Gli do un'occasione Gli do un'occasione Adesso lo seguo Ha un albero di Natale in testa Non può essere lui L'assassino Allora facciamo così No l'hanno votato Ah a posto Anche io l'ho votata Ma come? Oh ma se lui mi dai Se non è lui vuol dire Che l'ha fatto toccarla lui E vedi io mi fido Quelli che dicono no Sono sempre no Abbiamo vinto Già la seconda vittoria Ok Vabbè uno si scrive no Cioè è logico che si difenderebbe Che domande Eh però io cercherei di difenderebbe È impassato il mio personaggio È impassato il mio personaggio Talento Reby Venga qui al rapporto Venga qui da me Salve 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 Alverello Uomo albero Alberello ti sei difeso un po' male Alberello tutto bene Alberello Si dice se sei impostore Una volta Oh ma non vale parlare No no Dai Molly vieni con me Faccio lo scampi, faccio vedere che non sono io Boom 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 Aspetta sto facendo delle cose più importanti Non posso dirlo Sto proteggendo la navicella Guarda non ne sbaglio uno Guarda guarda non ne sbaglio uno Non posso guardare quello che fai Ne sbaglio uno Allora Cosa fa quello? Alex Ehi l'arancione mi sta seguendo Troppo spesso non mi piace Oh sta venendo vicino a me Scappiamo scappiamo Cosa chi? Mi stava chiedendo dentro C'è quello lì che è fermo da mezz'ora Albero uomo albero Uomo albero Allora il blu Dai ma non riesco a fare questa task Dai Reby vogliamo vincere O perdere C'è una task difficile in elettrica Che non riesco a mettere i numerini in fila Ok vediamo cosa mi manca Io sono a buon punto Electrical c'è qualcuno Ci sono io da mezz'ora Che basta non la faccio questa task Ho deciso Perché non hai fatto la task? Davoli eh Perché non hai fatto la task? Sei forse sospetta? Non sono sospetta Sto facendo tutto bene Vabbè andiamo da un'altra parte Dov'è che va questo? Oh Ok L'hai trovato te? No Alex è morto Sono morti due Però io non ho visto niente Come sempre Rip Rip Is white Hanno detto che è il bianco Perché? Non vi rubare le bianco Perché è il bianco? C'è quello lì Ci votano a casa Bianco Boom Votiamo Scriviamo dove? Why Where Ovviamente stiamo giocando con degli inglesi Esatto Non li conosciamo Prossima volta giochiamo con voi Esatto Ah because white Allora white hanno detto che è sas Fidiamo Ah sas ok Io non mi fido stavolta La rebi vota sempre a caso No Prima ho votato bianco Va bene dai votiamo il bianco Arrivederci No era come me Un soldato Hai votato il bianco? Ho votato il bianco Io non lo so Abbiamo Goku in squadra Io schifo nel dubbio Ok vediamo Dai Goku Scelgo te In electrical If you didn't get it Ha detto che era in electrical La rebi l'hanno votata due volte Oh Ma io non sono Dai ma ragazzi Sono me la rebi Non sono io Ragazzi è la rebi Ragazzi è la rebi Ragazzi è la rebi No no Non sono Ok va bene Adesso ti faccio vedere Vieni a farlo scan No 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 Non voglio Guarda viene qui a farlo scan Non si entra niente Ma guarda lo sto facendo Sì sì va bene Ma mi vedi che sto facendo Vieni qui Sì sì ti vedo Non mi guardare Ok non posso parlare L'uomo albero L'uomo albero L'uomo albero L'uomo albero Non posso dirti sempre Tre Cosa Voi devi scrivere il nome Christmas No Com'è come si chiama Tipa bo Tipa bo Tipa bo Ho ucciso la rebi Votatelo Votatelo L'ho ucciso L'ho visto L'ho visto con i miei occhi L'ho visto L'ho visto Fuori 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 alberello L'ho visto L'ho visto Non te lo posso dire Se è lui o no L'ho visto Che ha usato la botola Dai votate Guarda è lui Che non vota Ho vinto Ho vinto Vediamo Eh no Molto no Dì io te l'ho detto Quelli che sono Dicono sempre di Ma che cosa Ma perché Non l'hanno votato Ok abbiamo perso Eh io non posso dire niente Non si posso dire Ma tu l'hai visto Si l'ho visto Ok allora te lo dico Si mi ha ucciso lui E lui E lui E lui E lui Si ma aspetta No no Aspetta lì E qui cliccare Eh ma abbiamo perso Se questo Stramaledettissimo Eh ma uccide anche te così Ssh tranquilla Tranquilla No 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 Dai sbrigati Ma andate l'emergency E' un'emergency E' un'emergenza E' un'emergenza E' un'emergenza E' un'emergenza E' un'emergenza E' un'emergenza Porca miseria Ecco lì a tutti Che mi ha ucciso Come stracacchio Si chiama Eh Tipa bo Diggi Tipa bo Vote No aspetta Dite una cosa Digli Dark green Is the impostor Scrivi Dark Scrivi dark Dark Non così Non si scrive Ma perché A me mi votano Ma porca miseria Ma perché Hai detto solo green Devi dire dark green Se no votano te Porca miseria Votate porca miseria E lui E lui Vota Nessuno ti crede Porca miseria Se mi buttano fuori Mi cavolo Mi cavolo Ma stanno Ma scherzate Ma perché Ma perché Vabbè Allora a questo punto Non chiamare più l'emergenza E niente Speriamo che non uccida nessuno Oppure magari Uccide un altro Si abbiamo perso Perché tanto Sti testoni Non mi ascoltano Mi sa che Avete perso Ecco Eh si Se ne vanno Abbiamo perso Grazie Per averci fatto per Giochiamo con delle persone Che non hanno un'idea Di come si gioca Porca miseria O magari non si fidano di te Guarda stai con il viola Mi credi viola adesso Stai con il viola Chi è che mi vota contro Il viola ogni volta No è vero che ti vota contro Oh porca miseria Apri sto bottone Non ne hai più Aprite sto pulsante Ma non ne hai più Non giacchiamo Porca miseria Porca miseria State insieme Tu al viola State insieme Non mi sto pulsando Porca miseria Non mi sto pulsando Stai insieme al viola Sennò ti uccidono Premi 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 Ma il viola ragazzi Non ha un'idea Non ha un'idea Di come giocare Viola sta pagando Così nel viola Viola premi quel pulsante Porca miseria Beh il viola dovrà aver capito Che non sei te Ma tanto l'altro è morto Come l'altro è morto Siete tu il viola Vieni viola Vieni viola Vieni viola Vieni con me Vieni con me Non star da solo Dai Io intanto sono un fantasmino Vieni con me Vieni con me Ma perché va di là Porca miseria Ma no Ma veramente Ma veramente Ma veramente Ma veramente Ma veramente Ma veramente Dai Abbiamo perso Io me ne vado No Aspetta Ciao Ma guardate Io me ne vado Sì ma non è giusto Così hanno sabotato Il gioco Ok ragazzi Per questo video Hanno sabotato La partita Direi che è tutto Cioè abbiamo giocato Con uno che non avevo Niente Se volete che nel prossimo Video diamo a un guest Giochiamo con i fan Fatecelo sapere Esatto ragazzi Giocate con noi Che almeno voi Capite Ci sapete fare Da noi è tutto E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao